Lunedì sera è arrivato il colpo di scena nella vicenda riguardante le sorti del punto nascite dell'ospedale di San Candido con la decisione da parte di provincia, azienda sanitaria e comune di San Candido di chiudere il reparto con il 31 marzo prossimo una soluzione drastica dopo mesi di discussioni e di possibili ripensamenti presa in quanto non era più possibile garantire il mantenimento dei criteri di qualità e sicurezza Sicuramente sin dall'inizio abbiamo sempre detto che uno dei problemi centrali sono trovare le persone specialistiche e lì abbiamo avuto ultimamente anche grandi problemi per quanto riguarda i medici di trovare queste persone e logicamente quando hai difficoltà di trovare queste persone diventa un problema di sicurezza E saranno in tutto una decina i dipendenti dell'ospedale di San Candido ad essere trasferiti presso il nosocomio di Brunico in seguito alla chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia in alta posteria A San Candido regna la delusione ma anche la rassegnazione in seno al comitato che si è battuto per mantenere in vita il punto nascite Era una decisione svelta che non mi sarei aspettata che viene presa in questo momento però è una decisione che probabilmente era l'unica se assume la responsabilità verso le mamme e i bambini e anche tutti i dipendenti Anche l'utenza che si appoggiava al reparto di ostetricia di San Candido vista l'imminente chiusura sarà dunque costretta a raggiungere l'ospedale di Brunico C'è in ballo la possibilità di creare un centro per l'assistenza delle donne nel pre e post parto Possiamo dire che con questo si inizia a lavorare già adesso poi non è un lavoro totalmente nuovo perché le ostetriche sicuramente hanno fatto questo lavoro in parte già prima adesso hanno la possibilità di farlo al meglio dei modi e senz'altro è logicamente anche con più tempo che hanno a disposizione per seguire le donne dopo e prima del parto L'ammarezza in seno al comitato resta ora la speranza è che a San Candido si possa creare realmente questo centro per l'assistenza delle donne prima e dopo il parto Però noi speriamo almeno che riusciamo poi con quel centro per le donne di seguire le donne fino al parto e poi di poter offrire un servizio anche dopo il parto